Attenzione! La lettera A, lì in prima corda, bozza, tutte e due le volte, va bene, un po' di portamento, un po' di legato, non è, non trovo, not too much, ma non play come computer. Questa è lettera K, no? Allora i corni hanno un mi naturale. Ta 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 ta, pa, io ho questa mi naturale, no? Repite il mi naturale. Ta 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 ta, pa. Mi arrivo, mi arrivo, mi arrivo, mi arrivo, mi arrivo, mi arrivo. Oh, sì! la sua risposta ai piatti va bene io ho la risposta si deve andare vicino ai musicisti se no dal podio comincia a comandare e uno seduto dice sì e invece niente quando io sono qua e lei la infondicò senta non si potrebbe mica no invece sei vicino di cosenta per piacere e la cosa è differente il contatto è molto diverso si fa musica che comanda è la musica di un compositore e tutti siamo là per servire il compositore grazie 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 a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.